mi tra poco con il modem che viene qua e darmi una schiaffa marco ceo io sono molto seria dico io però se mi serve con super forza cosa voglio lamentarvi ancora ma no va guarda che se magari tassi da struccare brutta dracona eh posso giocare su guarda roba si è superman si devo scorzare guarda ecco non viene fuori del server prima si adesso non fa entrare fuori qualche volta ora posso sbocca abbassa l'altezza del salto perché posso giocare 20 metri e puoi saltare di alto ma aspetta 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 no perché il cazzo che c'è adesso che non va addio il mio bastardo ha provato a fare un attentato guarda diego perciò di cura me oggi ma se nel proprio del sito ufficiale no chi si entra? eh ora ho canna grandi invece non posso mettere in quella ho canna tu ma leee vergogno chi? ah mio hai cannaaaato è come una grigliata a mettere un poco ciascura e dovemmo fare la cisterna del gasolio quindi ritorna vincenzo gasolio vincenzo gasolio vincenzo gasolio torna poi con l'auto e mi e marco ceo che mi venite a impiantare la cisterna? eh sì tu cosa hai dovuto fare? ahahahah ahahahah perché mi ha cambiato la cisterna ahahahah i parcheggi ahahahah che cosa hai dovuto fare? ahahahah che cosa hai dovuto fare? ahahahah che cosa hai dovuto fare? ahahahah e mi schiccio il jeep a montare in cima le macchine ahahahah molto picco perché andiamo avanti a comparte? io ho avuto ma mi devo andare a lavorare madonna eeeh quando ben stavo in cima al trattore? ahah tornare a lavorare in trattore ahahahah penso è vero tanto non neanche a distante ahahahah è già stato fatto più di qualche volta si abbiamo un po' cos'è che ti fai colonna poi in salita c'è anche peso ahahahah così ho fatto colonna ti vengono via quella piccola che domani è anche una bella giornata ahahah ti vengono a rivelare la moglie ahahah è il venerdì che mette il disastro cosa c'è pa cosa c'è pa cosa c'è pa che basta un culo ecco è togliere è da capiore è da capiore da sganciare la semenatrice sotto il barco ahahah il problema si è che avevo da svuotare tutto il barco che ieri è il disastro toi toioni feri adesso sì al prossimo anno basta finito eeeh purtroppo beh oddio meno che non senti fuori qualche altro appensamento un po' di qualche ritardatario non ho un amico ho una fame guardami il mare che mi ha un po' questa sera ah tu hai un pochino 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 è un pochino di legno eeeh mi ha un pochino due hamburger con un mese piatto e pochino adesso tre quattro castagne e guidovalle con fame ancora paga fuori che sei il giardino maia l'erba ahahahah buona dai tre no tra di me non mi sono in cattia tre due due eeeh ho caricato la roba per minare la t ma no mettovo il trattore si eh ma farò vedere che se devo caricare per niente buttare fuori che cisterna è merda aaaaaaah dito se ne hai sparito un tocco aaaaaaah mio aaaaaaah vado vado due minuti due minuti eh muoti quale quale dell'ermo il levante o l'arro tutti facciamo una festa no vado a tirare fuori la pulga maria vergine vado a fare la sagra ehm dal dalle dalle dannio worthless e eehh ehhh il giorno 25 e eehh e eehh e la guardare che puoi sapersi eh ho visto e ti ho anche risposto anche io Gerardo ti ho mandato un messaggino dai arriva col triciclo colore rosa no triciclo anche quella macchina gialla il furdon eh il giallo mi fa una rosa vabbè dai il colore che mi sembra già guarda questo qua quanto è presso guarda qui i baioni allora senti a presa fa baffin fatica via non ti puoi neanche lanciarli io quasi ho rosa adesso ecco tu adesso che ti ha amato ti manda che amati un comissuto tecnico ah guarda dai oh questa è la fissione del cardano caldo come mai eh questo è un pezzo di olio il fuma e fa e fa psss com'è che fa psss wow gervanio la e la settembra dobbiamo vedere cosa è tutto il cerramio che moto caro adesso dici che non si può cavarla e così caviamo lo stesso a te il mio verso mi portai non ti puoi cavarla non ti puoi cavarla che non ho alcuni problemi eh tu devi farla in un'altra parte eh sì ma che pezzi di m***o qui della mappa che aveva messo che mi riesco ad entrare dritto che aveva messo una foto della cisterna nuova al posto di qui prova a vedere se puoi rimuoverla Marco adesso ho fatto da sinistro anche perchè la cisterna è gasolio tocca i mangiatori dei bestie sì eccezionale eeeh ed è chiaro, QP, costruzione e ridemollisci? serbatoio di benzina medio, rinomina posso rinominarlo? ma non ti puoi cavarlo? eh non so, potrei provare a cliccare, non vorrei cavarlo provarlo ti puoi cavarlo, provarlo il serbatoio non è vuoto, saranno vendute anche queste merci diesel 9923 valore 3000 A vedo ok? si il progetto è scatto venduto si è sparito il simbolo delle gasolie esatto però no al cisterno al cisterno è qua speriamo di modificare la mappa mamma mamma vabbè andiamo lì Artemio io riusciamo il terreno qua qui ti viene qui con l'Iveco con il turbo star tu fai finito a scaricare a Iara fai una montagna per saltare da qua e a cisterna che piaceremo qua appa, adesso io no aspetta che pressa oh è qua il geranio è che appare sul motosappo furgo e dove sei? allora resta là? eh no AHHHHH ancora più lungo dopo il torre che è furgo ah si, ora è là, è proprio là ah, spari il furgone ma è buona che fame che ho voglio pisciare dai che ti chiamo ah, non trovo da regolare dove si a finire fuori tutto ehm adesso è un puero veramente no, magari i arachidi da mangiare ah, mangi a quei, ora devi fuori anche se eh, vuoi vuoi anche qualche tarallina da un attore eh, ti hai anche il mini colla vieni quei, vieni te mani, ti sei a posto guarda che qua i furgone ti erano di nuovo eh, ho tolta la cosa che so che tu hai sbagliato di mangiare di nuovo e tu sei? ho tolta la qualche tarallina eh, meglio non è che qui la tu aspetta che ho tolta i tarallini che ho sui Sky eh, io sei montato eh, io sei montato eh, guarda un po' sottopare c'era fuori tutto come i... no, è perché la sera quando tornavo a casa in trattore mi maniavo una branca perché ho fame e ho pomare di che avevo un cura da fare un pochino di mestieri sennò io non so fame ah, ma cos'era qualcosa dai io, sì, sì ah, ah e patatini stai finire il di dopo vabbè, di nuovo, io ne ho capo qui 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 con le pinne con le ducchiali no cazzo, c'è che trapea rosa dove si finirmi trapea rosa ah, non so mi agaccia male mi agaccia male visti a... oh, buddy tu ne sai niente che cosa? del... cosa rosa tocca a Marco, Zeo ah, e dove? vuoi di cuore pasta AAAAAA ok, ora si arriva là albero bello cos'è cazzo? ah, che... che cazzo è 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 2 sono giallari e stracciavari non c'è la dentro? no, devi essere in motocicola comunque c'è eh albero belgo avete visto che ero in maledetto? se ti ho fatto una buccia un poco fuori non so più a più a un'edreo e'scrivi sui terrellini se è con rosmarino e a cuore pinge indietro Ahhhh! Perché che gente che Dio fa la vostra mano? Odo a tu qualcosa, tirami in Dio! Vai! Ma non è così! Cosa hai piantato? Ahhhh! Ma cazzo è che è Miquel? E si va su come un sito? Cosa pretendi tu? Ah, mi mi sono piantato sulla cisterna e i gasoli! Bravo! Ahhhh! C'è dividero! Dicchialagio! E' un par sotto terra! E' un par sotto terra! Ah, mi sono incontrato che è una bulla un metro! Pado, io sei Artemio che non è sotto terra! Che ho visto? Cap già copiati, già copiato! Che facevo? C'è ancora qua sotto? Oh no! No, andando via! Ahhhh! Dai che t'acchiamo! Sente! Che investimento! Che investimento! C'è ancora! Magari un telescopico... Dai Marco, attacca! Oh! Che c'era? Due! C'è così io ma niente... E' un'idea! Ho un'idea! Vieni qua! Se no, attacco il video così da messo! Mi fa il spuntino delle 18 e 49! Dai Yassio, altro ciclo! Aspetta! Fermo là? No, vai indietro! Guarda qui! Indietro, 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 indietro! ora ancora 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 no non ho mai niente ora prego e partito il mio bravo no siamo stare ma si fa che si va 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 questo è il fumo esatto faccio il cuore il saper luogo esatto moto dal metro battaglio grazie adesso interviene fuori no no asio perchè mi vengo appena a tirare su parco patico e mi ha dato lì no dai dio e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci a